E allora eccoci rientrati in studio, stiamo sempre con Cecilia Barella, stavolta invece parliamo di una cosa in cui lei ci ha messo lo zampino, diciamo le cose così, senza vergogna. Non c'entrano i Tokyo Hotel, non c'entra la Berlino. No, facciamo un salto indietro nel tempo, molto indietro nel tempo, perché parliamo... Davanti al clonone di esecuzione, no, quella è la Grazia Marquez, siamo andati altrove come latitudini e longitudini, prego. Sì, siamo in Finlandia e parliamo del Kalevala, che è il poema... E qui abbiamo già perso 50 spettatori, spettacosi, però possiamo proprio scappare, cerchiamo di riappistarli. Il Kalevala è il poema nazionale della Finlandia, che è stato ristampato da poco, da pochi mesi, dopo 100 anni che mancava nell'editoria italiana, insomma, quindi siamo molto contenti, che abbiamo curato, a questo punto lo dico, io e Roberto Arduini, che altre volte avete visto in questa trasmissione, che ha una formazione da filologo e è stato un lavoro molto interessante che c'è anche... Senti, ma perché il lettore moderno dovrebbe leggersi questi poemi, questi canti raccolti di un poema finlandese? Sì, perché sono 50 runi o canti. Diciamo perché. Perché un lettore a cui piace per esempio l'epica o il fantasy sicuramente può piacere anche il Kalevala, perché in effetti è alla base poi, no, anche di molta letteratura di questo genere moderna. Citiamo Tolkien per tutti, che si ispirò e lo disse più volte. Disse che quando scoprì questi racconti sembrava di essere entrato in una cantina con del vino e del briante, quindi. Sì, 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 quindi... Ecco, voi che siete sbrecati adesso sulla Voltrona e state pensando ma che cosa gli stanno proponendo questi, ecco, se vi piace Tolkien sicuramente qui trovate pane per il vostro in mente, giusto? Sì, può piacervi questo libro, sì, è una storia molto bella, può sembrare un po' diverso ovviamente lo stile perché è stato ripubblicato nella sua versione originale in versi, non in prosa, ma è bello anche quello, insomma, è qualcosa di diverso da leggere. La traduzione poi, insomma, di grande spessore... Esatto, quello è l'elemento poi importante di questa pubblicazione perché è stato deciso di ripubblicare la traduzione del Pavolini che ha anni, però è la migliore traduzione italiana che è insuperata da... Anche perché traduttori dal finlandese così, sulle punte delle dita non è proprio facile mantenendo lo stesso metro, tra l'altro, no? Non è che l'editore scende dalla fermata dell'autobus, io sono un traduttore di finlandese, insomma, non basta... No, no, ma non basta neanche, penso, sapere la lingua soltanto, no? Come ben sai, per tradurre non basta soltanto sapere una lingua e quindi è stato un lavoro molto importante che Pavolini, questo professore dell'Università di Firenze, fece nel secolo scorso ma che rimane attualissimo. Quindi da Pavolini ad Arduino, se vogliamo, siamo passati... C'è una rima che funziona, che funziona. Allora, per acclimatare meglio i nostri spettatori, adesso facciamo vedere una breve scheda in cui presentiamo le edizioni delle varie opere epiche, della tradizione europea, dalla Germania, la Francia, l'Inghilterra, Orlando, Orlando, Parsifal e chi più ne ha, più ne metta. Quindi è un po' come Amazon, no? Se vi è piaciuto questo, vedetevi anche questa. La seconda volta che la dico sta battuta, oggi sto invecchiando. Vediamoci nel clip che è meglio. Loro certo del mercato non avrebbero comunque bisogno, né mai ne hanno avuto. Parliamo delle grandi narrazioni epiche, alle radici della tradizione letteraria del nostro continente. Epopee, saghe, canti, poemi, narrazioni, compilazioni, insomma tutto quanto si irradiò da corti e monasteri, dalla smania dei nuovi monarchi di crearsi una tradizione che potesse rivaleggiare con quella greco-latina e dalla pietà di monaci innamorati di Cristo, ma affascinati da quei racconti pagani che serpeggiavano nelle campagne e davanti ai focolari del loro greggio d'anime. E così tuttora sopportano con degnazione di essere trattati alla stregua di blockbuster del momento, perché hanno una storia comunque troppo annosa e importante alle spalle. E allora per chi, toccato oggi dalla rivincita mediatica della Medioevo al cinema e tra gli scaffali, volesse andare alle fonti, ecco alcune indicazioni editoriali. Partiamo dalla materia germanica. Con questa pregevole edizione dei Nibelunghi per i millenni della Einaudi, lacrime, sangue, eroismo e Siegfriedo e Brunilde, magia e valore nell'incombente destino di morte che fa di questo poema una grandiosa epica della disperazione. E più su, in Gran Bretagna, il Beowulf, recentemente portato sul grande schermo, con effetti a volte grotteschi, una donna mostro nei panni di una bionica Angelina Jolie. Molto meglio, a parte Angelina, leggero in questa splendida versione del Nobel irlandese, scimusine, iperfazzi. Qui c'è grande poesia, profondità umana, un eroismo già venato di cristianesimo, il senso della grandezza di una storia che ci sovrasta, lasciando spazio alla pietà e alla costanza dell'uomo. Più mite il cantare del Sidi, in una Spagna già forse in attesa della dissacrante Don Quixote, più noto poi ai nostri lettori. Orlando e Rolando, i paladini di Francia, da trovare nei romanzi cortesi. Edito da Mondadori, infine spostandoci all'estremo nord e ovest d'Europa, antiche storie e fiabe irlandesi, sempre in Audi, sempre nella collena ai millenni, e l'Edda in poesia. Cioè tutti i miti scandinavi, dalla creazione del mondo fino alla sua distruzione. Thor, Odino ed altri dei, emigrati dalle coste della Norvegia fino alla vulcanica Islanda. Allora, detta così, però forse sembrerebbe che il Kalevala è un'opera del Novecento, invece l'originale viene, a parte il Medioevo, insomma è stato poi rielaborato nell'Ottocento. Il Kalevala è stato rielaborato e trascritto a metà dell'Ottocento, perché si tratta... Da un erudito che andava in giro ad ascoltare le fonti direttamente. Esatto, esatto. Era un periodo molto interessante quello, in cui si raccoglievano anche i poemi le canzoni popolari, le canzoni popolari. È un po' l'eredità del romanticismo questo interesse per la cultura nazionale e popolare. Per cose che adesso sembrano magari lontane o dotte o colte, all'epoca invece nascevano proprio dal popolo, dal suo strato, dalla gente, dai racconti... Esatto, esatto. ...senza essere ritrovici, proprio lì del Camino, no? No, no, è vero, è vero. Non è un caso che molti di questi poemi siano stati trascritti e dati alle stampe proprio in quel periodo, perché nella maggior parte dei casi si trattava di opere trasmesse a voce dai cantori, oppure magari nascoste in manoscritti, sepolti, in qualche biblioteca. Abbiamo detto che sono 50 canti, ma cosa succede dentro? C'è una storia, non è proprio... C'è una storia proprio dipanabile, no? No, la storia è molto complessa, non ci mettiamo a raccontarla, perché in effetti si tratta di un intreccio di tre storie che seguono tre personaggi principali, però possiamo dire che ricalcano un po' l'epopea dell'incontro e dello scontro delle due popolazioni, i finni che abitavano la parte più meridionale della Finlandia, al confine con la Carelia, diciamo la Russia, e i Lapponi a nord. Quindi ecco, c'è appunto un... probabilmente si pensa che il poema sia nato un po' sull'onda delle emigrazioni. E i poemi epici, per il periodo c'è anche un oggetto magico al centro del contendere. Esatto, esatto, che è il sampo, che probabilmente è un mulino che produce macina ricchezza, però l'identificazione è tuttora controversa. Non c'è neanche forse bisogno per godersi il poema, per sapere esattamente... No, no, in effetti è un simbolo, sì. Eroi, battaglie, battaglie non tantissime. Non tantissime. Un elemento abbastanza particolare di questo poema è che tutto sommato descrive una popolazione piuttosto pacifica, perché è molto, molto a contatto con la natura. Ci sono per esempio moltissimi canti magici di origine sciamanica, per la guarigione, oppure come portafortuna per i matrimoni. Quindi tutto sommato descrive appunto una popolazione, anche questo è bello da leggere oggi, devo dire. Sicuramente. Ultima domanda. Che cosa, se c'è qualcosa che dice di più su di noi, sull'uomo, sull'essere umano, questo poema che non c'è nelle altre epiche, oppure magari che c'è anche in altre, e questo lo valorizza particolarmente, secondo te? Io penso che forse è più riflessivo in alcuni tratti, proprio perché si capisce che ci sono parole di uomini che erano considerati i saggi del gruppo, quindi lo sciamano piuttosto che il mago, il medico, che poi spesso erano figure che coincidevano. Quindi rispetto a poemi più... Quindi la cultura di un popolo che ci si presenta in forma così, di racconto e di uomo. Perfetto, questo mi sembra il lascito migliore di cui possiamo godere anche noi uomini del ventunesimo senso. Grazie allora Cecilia. Grazie a voi. E rientriamo negli studi di Satoleumila con Pierluigi Vito per vedere come sono andate a finire le nostre gare. Noi ci vediamo qui come sempre la prossima settimana. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti.